Buongiorno! Oggi è mercoledì. Anche stamattina non so che c'è brutto tempo. Sono tre giorni che fa brutto tempo. Comunque sono le sette e venti. Le venti. Ecco. Sto cercando di fare il sole Francesco. Speriamo che non faccio storia anche stamattina perché anche stamattina ho una verifica e quando ho le verifiche gli viene l'ansia. Tra l'altro poi a scuola sono stati veramente pessimi. Hanno continuato praticamente quasi tutti, tra le poche eccezioni, quasi tutti hanno continuato a fregarsene, a interrogarlo normalmente. Io veramente non so perché fare. Proverò a dirlo di nuovo con la psicologa se ci parla lei. Ma anche l'altra volta ci ha parlato lei e non ho concluso niente. L'hanno intortata dicendo che l'hanno fatto per recuperare i voti, le interrogazioni precedenti eccetera. Allora Francesco è andato a scuola. Era anche abbastanza tranquillo stamattina, meno male. Siamo andati al penny a prendere due cosine e poi siamo andati alla Vodafone. Perché praticamente essendo clienti Vodafone è arrivato questo messaggio a Marco di questa offerta per prendere il nuovo Samsung. e con zero anticipo è a rate di 30 mesi tipo mi sembra. Quindi appunto piccole rate e siccome il cellulare di Marco ha lo schermo frantumato è già da un po' di mesi. E considerando che non ci siamo fatti nessun regalo per Natale ha pensato di approfittare di questa offerta. Intanto appunto pagandolo così a piccole rate pesa meno diciamo. Ha pensato di approfittare dell'offerta e cambiarci tutti e due i cellulari. Quindi ce l'ho qua. L'unica cosa perché io comunque non avevo nessun problema con il mio telefono. Mi funziona benissimo quindi non avrei mai pensato di cambiarlo sinceramente. E quindi l'unica cosa che mi auguro a questo punto è che i video siano di qualità migliore. Video e audio sia di qualità migliore. Quindi dopo che l'avrò configurato che avrò fatto il passaggio delle mie cose da questo telefono a questo. Poi proviamo e vediamo. Speriamo che appunto ne valga la pena. Comunque vi faccio vedere le cosine che abbiamo preso al Penny. Poca roba. Allora abbiamo ripreso le arance. Poi ho preso il preparato per purè. Le carotine alla giuline. Insalata. Poi abbiamo preso una passata di pomodoro. il tonno. Grana padano. Aceto balsamico. Una. Cioccolata al latte con granella di nocciole. E due di queste qua. Cioccolata Ferrero Rocher. che vabbè. Questa è spettacolare. E basta. Abbiamo preso solo queste cose. Sì. Adesso è tardi. Sono già. Le dodici meno un quarto. Mi metto a dare una pulita veloce. Fortunatamente ieri ho dato una bella pulita. Mi ero impegnata parecchio. Quindi oggi anche se do una pulita veloce. Va bene. Ho passato l'aspirapolvere e ho dato una lavata super veloce. Adesso sono le dodici e dodici. E ho fame. E siccome Francesco ieri non ha mangiato le focaccine. Sia le ha portate a scuola. E le mangio io. Che cominciano ad essere un po' reinsettite. Però fortunatamente nella gustina si mantengono abbastanza morbide. Ci metto un po' di Philadelphia dentro. E mangio queste. Poi magari faccio merenda. Io pranzerò così. Poi vabbè. Se ho ancora fame faccio merenda. Oggi può darsi che non debba andare incontro a Francesco. Perché giovedì scorso che a casa non c'era nessuno. Quindi è tornato da solo. Un suo compagno di classe col quale ha fatto amicizia. Ha fatto la strada insieme a lui. Allora. Mancano 20 minuti. All'uscita di scuola di Francesco. Sto caricando il video. Ho preparato il pacco con i folletti. E mi sono dimenticata di farveli vedere prima. Vabbè. Casomai vi metto la foto di qualcuno. Perché ne avevo fatto qualcuno diverso. Col muffin. Col gelato. Con l'unicorno. Quindi magari vi metto la foto di quelli. No. Cavolo. Mi sono dimenticata. Che volevo fare l'esercizio per le vertigini. Prima che Ammarco andasse via. Stamattina. E mi sono dimenticata. Vi tocca sopportarmi di nuovo. Ok. Prima che finisco con il video. Dedichiamoci all'esercizio. Perché poi mi voglio riprendere. Se devo andare incontro a Francesco. No. Non vi scandalizzate perché tanto c'è una conna con i pantaloncini. Perchè non starò attento a quello. Ecco. Ah. Forza accolaccia. Non sarà mai sta paura. Mi stanno salendo i battiti. Sono al 93. Ok. Calma. Uno. Un. Due. Tre. Cinque. Sette. Sette. Otto. Nove. Dieci. Ma smettila. Uno. Due. Tre. No. Lola. Cinque. Sette. Otto. Nove. Dieci. Allora dove si mette. Proprio dove mi devo sdraia. Bravo. Dieci. Svevo le occhie. Ola. Una. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. No dai. Ora non posso. No. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Uno. Due. Tre. Quattro. Dieci. Uno. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. L'ultima volta. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Uno. Due. Ovviamente c'è anche la difficoltà di cani e gatti pari. tre. Ok. L'uno e ventidue. Non mi ha mandato nessun messaggio. Quindi vuol dire che non viene insieme al sonico. Sono quasi le quattro. Mi sono messa comoda. E apriamo questo telefono. dietro così. Qui c'è la pellicola protettiva che adesso taglierò subito. E poi c'è il cavo e basta praticamente. Ok. Devo fare il passaggio dei dati da questo telefono a questo. Quindi ci vediamo dopo. Allora io sono ancora perplessa per la qualità video di questo telefono. Ma riesco a capire se è migliorata o se è peggiorata. Perché sinceramente io non avrei cambiato telefono. Cioè io stavo benissimo con il telefono prima. Non mi dava nessun problema. Quindi ho accettato di cambiarlo solo perché ho pensato vabbè almeno ho una qualità video migliore. Ma se poi invece non è così sinceramente mi tirano le scatole. Boh raga non lo so. Fatemi sapere voi veramente come vedete questo video. Se vi sembra migliore o perlomeno uguale a prima. Anche l'audio magari. Fatemi sapere come lo vedete voi dato all'esterno. Perché io al momento non sono per niente convinta. Quindi sono un po' amoreggiata. Comunque mi asciugo i capelli e sarà anche ora di preparare la cena. Continuo ad essere dubbiosa. Vabbè. Comunque vediamo un po' cosa mangiare. Io quasi quasi mi farei la pasta alla pozzagliola stasera. Che ho tanto che non la mangio. Olaf come lo vedete vabbè lui è sempre bello. Con qualsiasi fotocamera vero? Francesco ha avuto una bella insalatona. Ci ho messo lattuga, carote, tonno e mozzarella. No. Buona. Comunque. Io vi saluto e vi ringrazio tantissimo della compagnia. E ci vediamo al prossimo video.